Governance Poll 2018, in vetta c'è Luca Zaia. Il sondaggio che fa la classifica dei presidenti di regione, firmata SVG, mette in fila le preferenze degli italiani. E in cima, lì sulla vetta, c'è lo scranno più alto di Palazzo Balbi. Secondo alcune indiscrezioni sugli esiti del sondaggio, Luca Zaia è al primo posto in Italia per efficacia dell'operato dei presidenti di regione, con un gradimento del 56%, davanti al governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha ottenuto il 47% delle preferenze, e davanti al presidente della Toscana, Enrico Rossi, con il 36%. È una soddisfazione, ma un risultato come questo assegna anche grandi e ulteriori responsabilità, ha commentato il presidente, che ringrazia anche la Giunta e tutto il Consiglio. Come ho sempre sostenuto, i risultati si raggiungono col lavoro di squadra. A rappresentare il Veneto, oppure la politica amministrativa, o da ministro dell'Agricoltura, da anni oramai calca anche le scene nazionali, divenendo personaggio noto a tutto lo stivale. Ancor prima del suo partito, lui aveva raccolto consensi da nord a sud, difendendo l'italiano parmigiano, dal parmesan, mentre era alla guida del di Castero, e le origini trevigiane del tiramisù, mentre porta avanti la questione veneta, con un unico e sempre verde motto. Penso che la motivazione è lavorare a pancia a terra aiuti di più all'obiettivo.